La vita è un dono prezioso e non è giusto sprecarlo. Ti darò alcuni consigli su come non sprecare la vita. Ciao io sono Charlotte, ho fatto questo video per te. Seguimi fino alla fine. 1. Cosa ti motiva? Cosa ti fa sentire vivo? Quando sai qual è il tuo scopo, puoi iniziare a vivere una vita più significativa. Vivi nel presente. Non sprecare tempo a pensare al passato o al futuro. Concentrati sul momento presente e goditelo. Cerca di essere felice. Perché la felicità è una scelta. Come tutte le cose della vita. Scegli di vedere il lato positivo della vita e apprezza anche le piccole cose. Sì altruista. Fare del bene agli altri è un modo straordinario per rendere la vita più significativa. Inoltre, prenditi cura di te stesso. Il tuo corpo e la tua mente sono la tua casa. Prenditi cura di loro per vivere una vita lunga e sana. Quindi, ritagliati del tempo per le cose che ami. Non sprecare il tuo tempo a fare cose che non ti piacciono. Fai spazio per le cose che ti fanno sentire vivo. Rifletti sulle tue azioni. Chiediti se stai vivendo la tua vita in modo coerente con i tuoi valori. Se non lo stai facendo, apporta le modifiche necessarie. Non avere paura di rischiare. La vita è troppo breve per giocare sul sicuro. Esci dalla tua zona di comfort e prova cose nuove. Impara dai tuoi errori. Gli errori li facciamo tutti. Impara dagli errori del passato per evitare di ripeterli in futuro. Sii grato. Prenditi del tempo ogni giorno per apprezzare le cose belle della tua vita. La decisione di come vivere la propria vita spetta a ognuno di noi. Spetta solo a te vivere una vita piena e significativa. Medita e agisci. Che la pace regni su questa terra. Sii felice. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.